Il grande fiume scorreva placido fra i campi della bassa e i pioppi gli raccontavano incredibili favole vere. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. Ho sempre pensato che nella politica ci fosse qualcuno che difendesse i deboli. Ho creduto nei sindacati. Poi un giorno ho letto una notizia dove Agnelli si rivolgeva ai sindacati perché calmerassero gli operai della Fiat che, insoddisfatti dei sindacati, stavano protestando in maniera autonoma. Al che io mi sono chiesto, ma se il sindacato deve difendere i lavoratori, perché il datore di lavoro, quindi quello che veniva definito il padrone, si rivolge ai sindacati perché intervengono contro gli operai. C'è qualcosa che non va. Sono stato iscritto, lavoravo in banca, sono stato iscritto al sindacato, ma nel momento in cui mi hanno trasferito contro la mia volontà in un'altra succursale, in un'altra agenzia, ho chiesto aiuto al sindacato. E mi ha detto, eh, non ci possiamo fare niente. Ma non ci potete fare niente. Perché? Ma io vi ho dato tutti questi anni dei soldi perché mi difendeste. E voi non mi difendete. Lì sono stati i primi screzzi con quella che si chiama polis, che in teoria dovrebbe essere una roba che riguarda la gente, la politica dovrebbe riguardare la gente, i rappresentanti dovrebbero rappresentare la gente. Quindi io sono sempre stato fuori, da lì sono andato fuori da tutto. Già ero un archeo, quindi sono andato fuori da tutto. Anche nel periodo del movimento studentesco, io non facevo parte del movimento studentesco. C'ero dentro ma non ero parte. Collaboravo ma non ero parte. C'erano tante cose che non mi andavano. C'era questa arroganza che i capi, i grandi capi, pensavano di essere quelli che determinavano la linea politica che tutti dovevano seguire. Non chiedevano, non facevano le assemblee per chiedere dove dobbiamo andare. No, dicevano, dobbiamo andare da questa parte. Tant'è vero che mi ricordo benissimo una riunione dove loro arrivarono, facevano delle riunioni durante l'estate qualcuno per stabilire la linea politica. Io facevo parte perché io, anche se ero un archeo, dopodiché arrivano a settembre, aprono le scuole e immediatamente sciopero prima assemblea. Prima assemblea dice, noi dobbiamo protestare, fare sciopero per avere più spazio politico all'interno della scuola. Che cazzo vuol dire più spazio politico all'interno della scuola? Al che io dissi, no, ragazzi, c'è un controsenso nella scuola. Cioè, noi dobbiamo pagare i libri, dobbiamo sostenere dei costi per venire a scuola, per prepararci per il lavoro. Ma perché dobbiamo sostenere noi i costi? Dovrebbero essere gratis. È come se vostro padre va a lavorare in un ufficio e gli chiedono di pagare l'affitto dell'ufficio dove lavora. Al che me dice, ah, Rosso, ma che discorso, smetti di fare sta roba qui, da vacuni, nananachio, eccetera. Ma io dico, a me mi sembra un discorso logico questo, non avere più spazio politico all'interno della scuola. Il più grande contestatore di Bologna era Franco Bifo Berardi. Non ci ho mai capito niente in quello che diceva, ma la cosa bella è che di recente io sono sceso dal treno e ho incontrato lui. Lui scendeva dalla prima classe, io dalla seconda, perché a me non me ne frega niente di viaggiare in prima. E ho detto, eh, Bifo, chi l'avrebbe mai detto che un giorno ti avrei visto scendere da un treno in prima classe, così bello, elegante, con giacca, cravatta e tutto. E ma guardate, e ho detto, ah, quindi, quindi, diciamo, il problema con la politica c'è sempre stato. Poi un giorno Bomi mi dice, tu non puoi continuare a non appartenere a nessun partito, perché tu sei fuori da tutto. E gli dice, sì, hai ragione, Bomi. Cioè, allora, scegli un partito e poi appartieni a quel partito. Dico, ma io non appartengo a nessuno. Ah, scegli un partito. Vabbè, vabbè. Guardai i partiti, e tra i partiti, diciamo, sta parlando a fine anni 70, 77, così, quello che mi pensava più decente è il PC, il Partito Comunista Italiano. Mi piaceva Berlinguer, insomma. Dico, vabbè, e presi la testa del PC. Io ho avuto la testa del PC. Da qualche parte ce la devo avere, un giorno magari ne mostro. Dopodiché, ho cominciato a avere qualcosa che sì. Nell'83 addirittura, mi proposto di candidarmi e il primo che arriva fu il Partito Comunista Italiano, per esempio, mi ha chiamato con un nome. Non so se era Quercia, se era che cos'era, perché ogni tanto cambia nome, no? Arrivarono due esponenti del partito e dissero, noi vorremmo candidarti come senatore. Io dico, ma vabbè, ma io faccio televisione. Dico, voi, come partito, insomma, avete solo Rai 3, come Arete, dove io potrei fare le cose, quindi non so, io sto lavorando a Cancic. E loro hanno detto, non ti preoccupare, noi vogliamo tutta la torta e metteremo le mani su tutta la torta. Il discorso mi fece cagare. Dopodiché arrivò l'ADC che mi chiese, quando ho saputo che mi chiedevano di candidarmi, arrivò l'ADC, Democrazia e Cristiana, mi chiese di candidarmi. Mi incontrai con Formigoni, feci un pranzo, poi arrivò Boselli, Enrico Boselli, era il presidente della mia regione ed era nel PSI, partito del soggetto italiano, e fu quello che mi piaccue di più. Perché? Come persona. Perché cominciavo a capire che non c'entravano più i partiti, c'entravano le persone. Enrico Boselli era uno che come presidente della mia regione io sapevo che lui tutti i giorni, tutti i giorni, andava in un ufficio da qualche parte, prendeva una pratica dal tavolo, leggeva la pratica e diceva come mai non è stata evasa questa pratica. E faceva in modo che fossi evasa quella pratica. Tant'è vero che è l'unico, guarda caso, non mi sono sbagliato, che poi, dopo la fine di Crack, si è diventato lui segretario del PSI, quando ha perso le elezioni se ne è andato via. Non ha più fatto politica. Ha detto, ho perso, me ne vado. L'unico onesto. E quindi mi candidai come indipendente nelle liste del PSI. che cosa successe? Successe che ci fu un pranzo con Craxi. E quindi io andai a pranzo con Craxi. Craxi era qui, accanto a me c'era Boselli e qui c'ero io. Poi c'erano tutti gli altri candidati dell'Emilia Romagna. Io sono stato zitto, per tutto il pranzo ascoltavo. A me paradossalmente non mi piace parlare. è uno simer perché adesso sto parlando. Però perché sono costretto a me piace ascoltare. E io ascoltavo. A un certo punto Craxi dice ma il candidato giovane cosa dice? Io dissi cosa devo dire? Io dissi cosa dice? Io dissi beh dico che cosa dicono i giovani del PSI? I giovani dicono che al PSI non gliene frega niente dei giovani. Ah no, non è vero, presidente. Dico, silenzio, veramente. vai avanti. Era il 1992 e io dissi cosa ha fatto il PSI per i giovani? Cosa ha fatto il PSI per la cultura? Niente. Era già fuori di testa. E lui vai avanti. Lui che ha detto come stai facendo campagna attuale? Dico, beh, io ho un giornalino si chiama Bimbo Palula. Ce l'hai qui? Sì. Gli feci vedere il Bimbo Palula dove io ero in copertina dicendo se crei non mi ricordo più lo slogan ma votami eccetera. Prende il giornale lo apre e dice eh, ma qui hai fatto un servizio a Gino Paoli e Gino Paoli è dei comunisti partito comunale candidato. Dico, sì. Poi gira ma qui c'è un'intervista a Formigoni ma Formigoni è democrazia cristiana. Dico, sì. Perché? Perché dai spazio alla concorrenza? Dico, perché non è la concorrenza? Perché in futuro se mi è stato detto che è importante si che vado in Parlamento per fare delle leggi per i ragazzi visto che mi occupo dei ragazzi se devo fare delle leggi devo trovare degli alleati negli altri partiti perché la politica non è più così la politica è trasversale quindi io devo trovare delle alleanze. Io mi sono già alleato con Gino Paoli e con Formigoni Formigoni appoggia i miei proposti eventuali di legge se vengo let e Gino Paoli anche lui. Craxi era un genio rimase così e per il resto della cena parlo solo con me creando un'incredibile gelosia in tutti gli altri candidati. Finita quella cena hanno cominciato a coalizzarsi contro di me non volevano che io entrassi in Parlamento tant'è vero che nelle elezioni che ci sono state io ero Anzalone Gabriele parentesi Red Ronny perché mi avevano detto che entrambi i nomi ha depositato il mio partito aveva depositato anche Red Ronny perché l'ho conosciuto come Red Ronny. Il mio responsabile che mi aveva messo di fianco Bruno quello del mio amico della Angabici mi richiama e mi dice guarda che sta succedendo un casino dice perché? perché non stanno prendendo in considerazione i voti come Red Ronny e dico vabbè allora io ho accettato dico pensate che io stesso non mi sono votato mia moglie non ha votato me perché abbiamo votato Red Ronny quindi ho preso 25.000 preferenze che sono una enormità come Gabriele Anzalone al che mi chiama Intini che allora era un dirigente che mi dice guarda Red fai ricorso al TAR lo vinci vieni in Parlamento dico no se il mio partito che è stato il mio partito quelli del mio partito perché io non arrivassi in Parlamento portassi via un posto loro con anche delle idee secondo loro strambe che crack si apprezzavano erano strambe se quelli del mio partito non mi vogliono che cazzo me ne frega andate a fanculo ed è così che è finita la mia io mi ricordo da qualche parte c'è su Youtube un video di una mia partecipazione al programma con Funari dove lui dice ma lei è strano lei parla come un anarchico c'è uno che dice mi sembra un anarchico ed è vero sono anarchico non parli come perché non parlo come politico dopodichè il mio distacco è dalla politica e ho visto il crollo definitivo di ogni ideologia politica ok è stata fatta fuori la prima repubblica la prima repubblica io la intendo al di là di Aldo Moro che è stato fatto fuori fisicamente comunque sono state fatte fuori Andreotti con il processo con la mafia Craxi con la storia delle monetine e Berringer tutti nel giro di quel periodo perché perché chi ci comandava aveva capito che i nostri politici erano chi ci comandava non sono i nostri politici chi ci comandava è dall'altra parte dell'oceano nella parte nord dell'emisfero e come dice Fidel Castro loro erano erano vedevano che noi Craxi rivendicò la sovranità territoriale Sigonella e lì fu la sua fine per esempio poi ci sono inventate la storia delle monetine ci sono inventate la storia che tutti erano corrotti i partiti e tutti ma guarda caso solo il PSI mai o mai mai loro quindi e anche io ho cominciato a guardare tutto dal di fuori e ho cominciato a capire che io dovevo portare le persone indipendentemente dal partito a cui appartenevano o da queste cose anche perché ho visto veramente il frantumarsi delle vecchie ideologie le vecchie ideologie ad esempio ho chiesto dico scusa dico ma questa non la dico e quindi il perché ad esempio dell'aggressione a Cuba da parte della sinistra italiana non l'ho mai capita me l'ha spiegata Boselli mi dico ma scusa se tu andavi con D'Alema nella FGC il giovane comunista Cuba perché poi dopo loro l'attacco e lui mi ha spiegato il perché e non sono cose belle però al di là del fatto veniamo altra cosa che mi ha stupito è che un giorno leggo sono in Sardegna e leggo Sugno e Sarda oggi D'Alema è attraccato col suo splendido yacht nel Sulcis ed è andato a forgere la sua solidarietà ai minatori che hanno perso il lavoro nell'ingligente ma come ma nessuno si rende conto di quello che stai dicendo quello attracca con lo splendido yacht e poi vale a dare la mano mi raccomando poi dopo si lava la mano perché quelle sono sporche di carbone capito poi di recente si è visto D'Alema che D'Alema è risultato che l'intercettazione telefonica dove trattava vendite di armi a quanto pare dico le intercettuzioni che ho letto con dei milioni di commissioni che prendeva insomma quindi insomma non è che guido allora quando vedi tutte queste cose quando vedi queste cose qui quando leggi un libro come credo si chiamasse non so come si chiama forse Virus quel libro sui bambini sottratti dalla famiglia Modena la vicenda poi è andata anche è successa anche a Bibiano bambini sottratti dai servizi sociali servizi sociali e Bibiano è in provincia di Reggio Emilia e quando tu vedi che il deputato ministro anche di Reggio Emilia va sulla nave dell'ONG a dare solidarietà una che poi è sparita non mi ricordo anche più il nome ha capito giù al largo di Lampedusa e non va dalle famiglie a cui hanno sottratto un bambino ingiustamente con delle bugie genitori che sono tolti la vita bambini e non va nel suo territorio e gli dici ma scusate ma che sinistra siete cioè ti viene da dire questo no? è normale ok? oppure quando senti Prodi che dice oh Bibiano è è un raffreddore che minimizi cioè dici ma 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 accipicchia quindi alla fine ti rendi conto che finiscono tutte le ideologie finiscono tutto no? cioè attenzione io non entro nel merito della guerra però quando vedi che la sinistra che per anni ha preso tanti soldi dalla Russia perché era la Russia che finanziava il parito comunista e oggi mandarmi contro la Russia dici beh qualcosa è cambiato no? indubbiamente ci sono dei cambiamenti no? e allora rimani un attimo un attimo così e dici cos'è la politica e allora ti affidi alle persone allora conosci le persone e scopri e scopri ad esempio che ci sono delle persone e non te ne devi fregare di che partito sono perché questa cosa la diceva Gaber negli anni 70 cos'è la destra e cos'è la sinistra lo diceva Giorgio Gaber uno che è considerato di sinistra Moretti diceva di una roba di sinistra di qualcosa di sinistra come per dire non state più parlando per la gente ma è vero che non è un mistero no? le persone hanno capito che quella che doveva difendere loro non difendono più loro e sono rivolte alla meteora 5 stelle sperando in chissà che cosa poi alla Lega poi a Fratelli d'Italia perché? perché inevitabilmente di qua non si dice più niente di sinistra cioè questo è il concetto quindi alla fine non è una questione di ideologia ma è una questione di lavorare per la gente per quelli che ti danno un voto non di tradire ormai noi siamo così abituati non io siamo così abituati al tradimento dei politici che non ci facciamo più caso cioè i voti vengono dati a uno che dice reddito di città anzi per tutto ma è giusto o sbagliato non ti poni dice no no lo voglio perché lo voglio quindi voto per quello poi lui non te lo dà più oppure ti viene tolto ma non importa dopo ci inventano un altro slogan l'importante è avere slogan per quello io non credo nei partiti non me ne frega niente dei partiti credo nelle persone ci sono delle persone buone ci sono delle persone io mi ricordo quando ero piccolo guardavo guardavo la tribuna elettorale e mi affascinavano tutti mi affascinava persino l'almirante che era di estrema destra anche se io non ero tendenzialmente di estrema destra quando ero piccolino ho stato un milo e primo dicevo viva DC viva la democrazia cristiana mi piaceva la democrazia cristiana da piccolino quindi io sono stato cioè io non so neanche per cosa forse mio padre forse era fascista mio padre mi ricordo anche più ma non è quello mia madre poi non gli fregava niente ma non è cioè chi oggi dice si scandalizza perché una cristiana d'avena va a una festa ai fratelli d'Italia ti dovesse scandalizzare allora perché Lucio Dalla Bon Guccini e tutti andavano nelle fese dell'unità l'unico che andava un po' alle fese dell'unità poi ha rinnegato è stato un rinnegato Edoardo Pennato grande artista capito ma anche Vasco Rossi andava a prendere i soldi alle feste dell'unità era l'unico posto dove si poteva fare concerti quindi non non e allora alla fine alla fine quelli che dicono sei di destra perché non hanno capito niente di me e non hanno capito niente in generale perché dov'è la destra? dov'è la sinistra? cosa significa la destra o la sinistra? sono tutti schiavi di una campagna e in questo devo dire che l'unica cosa in cui è perfetta la sinistra è nelle campagne nella comunicazione nella comunicazione quando io il mio sogno era di fare un museo del Rocca Bologna con i cimili che avevo mi è sempre stato impedito perché? perché la cultura funziona così no? arrivano dei soldi per la cultura e l'assessore della cultura o il sindaco o chi è preposto convoca l'amico o il cortigiano o il colluso dipende metti la croce dove vuoi dove dice ci sono questi soldi per un progetto che sia così inventati un'idea per portarci via questi soldi così funziona la cultura perché non è come fare un ponte perché anche fare un ponte comunque almeno un ponte lo devi fare poi lo fai con materia di merda o non gli fai manutenzione e crolla purtroppo come è successo a Genova però almeno lì un ponte lo devi fare la cultura è qualcosa di aleatorio ok? cioè a Bologna hanno fatto una speciale su Frank Zappa non mi hanno neanche interpellato pure io ero amico di Frank Zappa ho interviste con Frank Zappa non mi hanno cagato ho offerto a Bologna la possibilità di fare guarda caso grazie a chi? a Nicola Sinisi che era del partito socialista che purtroppo non ha vinto le elezioni e quindi è decaduto però lui avrebbe voluto farmi fare un museo della musica a Bologna dove dentro ci sarebbe stata la chitarra di Jimmy Hendrix non avrei dovuto venderla sarebbe a Bologna la chitarra di Jimmy Hendrix sarebbe a Bologna la chitarra di Jimmy Hendrix sarebbe a Bologna però non ha vinto e allora quelli che sono andati sopra che gliene frega della chitarra di Jimmy Hendrix che ha suonato a Woodstock a Berla Bologna insieme a tutte le altre cose un cazzo ho proposto al Mambo il museo di Bologna facciamo una mostra sì ti faremo sapere il giorno in cui Letizia Moratti sindaco di Milano sono a San Patrignano a cena con lei Andrea Muccioli Gianmarco Moratti eccetera parlo della roba che ho e il giorno dopo avevo l'appuntamento con l'assessore e improvvisamente mi ritrovo con 800 metri quadrati in piazza Duomo per sei mesi Rock and Music Planet un museo che ha avuto un successo incredibile dove dentro con le opere di Lodal eccetera e a Bologna cosa hanno detto? che io ho tradito la mia città che non mi ha cagato la mia città non mi ha cagato per 15 anni e dal 90 che io ho fatto questa proposta quando sono entrato in posizione alla chitarra di Jimmy Hendrix il museo a Milano fatto nel 2008 18 anni Bologna non mi ha preso in considerazione la mia città e quando vedono che la mia roba è esposta a Milano in piazza Duomo 800 metri quadrati per sei mesi dicono che io ho tradito la mia città e mi sono venduto alla destra così hanno detto di me mi sono venduto alla destra questa è la politica ragazzi ok a me non me ne frega niente se la Moratti è appoggiata dalla destra mi dà un'opportunità la faccio ho fatto Live Me a Milano dove davamo spazio ad artisti emergenti nella metropolitana di piazza Duomo e dopo tre volte su un palco in piazza Duomo davanti a 35.000 persone ho fatto esibire dei gruppi emergenti davanti a 35.000 persone piazza Duomo in Milano Bologna non me l'ha mai fatto no una volta mi hanno fatto un'offerta adesso la dico quindi quindi Bologna non me l'ha mai la mia città non mi ha mai dato niente la mia città il sindaco è venuto solo una volta quando se ne andò a Bombi a ricordare Bombi e vedi la realtà di Roxy Bar e Roxy Bar era considerato il più bel programma al mondo da artisti internazionali ma Bologna la regione non mi hanno mai dato niente no solo una volta con un assessore hanno finanziato un un Emilia Rock roba del genere un premio che mi hanno fatto poca roba mi hanno fatto un premio per gli emiliani basta ho sempre fatto con forze mie non ho mai avuto un finanziamento dalla politica mai la mia regione non mi ha mai aiutato il mio comune Bologna non mi ha mai aiutato mai e una volta che Milano mi dò un'opportunità a Milano ho inventato la scala musicale piazza Duomo andate a vedere su youtube scala musicale metropolitana di Milano vi andate in Bologna sogno non c'è la metropolitana Bologna però c'è dove tutti gli scalini erano dei gradini di un pianoforte passando sopra suonavano la nota perfettamente intonata e anche i tasti neri suonavano quindi live mi sono inventato cosa succede che quando la Moratti dovevamo fare la nuova edizione di Laimi io ho detto Letizia la nuova edizione di Laimi visto che ci sono le elezioni non sfruttiamola come fatta elettorale stupidamente quindi non farla firmare non firmare l'ok aspettiamo dopo le elezioni la prima tornata di elezione vince Pisapia improvvisamente non firmano nessuno firma più l'autorizzazione Laimi io faccio un po' dico peccato che non si faccia più Laimi perché Pisapia è nata e la sinistra immediatamente ha sfruttato questa roba per è tutta colpa di Pisapia hanno creato lo slogan e mi hanno fatto imbettive eccetera uno di quelli che l'hanno provocata perché loro agiscono così hanno tutta una serie di persone che dicono ok intervieni vai l'obiettivo è questo pom pom in 8-10 scrivono e muovono un determinato tipo di persone poi c'è il popolo che gli va dietro quindi avevo un posto secondo dove mi attaccavano ok sono stato il primo ad avere uno shitstorm su internet sono accorti dall'America che c'era questo shitstorm tant'è vero che quello del sinistra che è uno di quelli che la generale dice ti chiedo scusa non credevamo assumesse una valanga così grande quindi capito l'hanno creata loro poi io avevo ragione avevo ragione perché Pisapia non ha fatto la EMI Pisapia non è stato un bravo sindaco di Milano tanto perché non si è neanche candidato perché nessuno l'avrebbe votato però non conta ciò che conta è quando ti attaccano ok questa è la comunicazione e mi dispiace che tanta gente ci vada dietro perché ognuno deve scendere tra ciò in cui crede ciò in cui sta dentro di sé e ciò che dicono sui giornali in televisione io da due anni e mezzo che non guardo i telegiornali non ascolto i tg e niente sto benissimo ma non sono staccato dalla realtà sono connesso con la vera realtà quella che mi arriva da amici quella che mi arriva su whatsapp su telegram sulle persone che incontro mi raccontano le cose sulle esperienze questo è importante cos'è la sinistra cos'è la destra quindi alla fine alla fine io dico primo ci sono delle persone io non io non io non ci sono delle persone che io stimo ma non so neanche la loro ideologia politica non so che ideologia abbia Luigi Brugnaro sindaco di Venezia lo stimo moltissimo persona meravigliosa non so che ideologia politica abbia Cattino De Luca forse so quella di Gianfranco Micicchè vi sto nominando persone che io stimo ho incontrato il sindaco di Siena Luigi De Mozio è fantastico incontro delle persone che hanno dei ruoli politici sono bene ma come persone io non so neanche che lì sta è stato eletto so che è un civico ma non so credo la Siena forse appoggiata alla destra è possibile ma non non è importante è importante la persona non c'entra destra o sinistra ok quindi per esempio se ad esempio la sinistra che parla di cultura è stata quella quando una volta io ho incontrato Peltroni perché doveva fare uno spettacolo auditorio mi dice tu facevi il programma più bello che c'era in televisione dico quale Roxy Bartic l'hai cancellato tu io è certo quando eri direttore dell'unità non hai lanciato la campagna salviamo MTV vi ricordate MTV dove andare sul satellite e lui dice eh sì ma dovevamo lasciare finire la cultura di MTV io ho detto prima mi devi spiegare dov'è la cultura in MTV poi ci fermiamo qui vero e lui ha cominciato a fartemi la gamba perché c'era dell'altra gente sì ci fermiamoci qui altrimenti avrei detto delle altre cose però per dire diciamo dove era la sinistra quando noi abbiamo svenduto Casa Ricordi alla BMG tedesca dove era la sinistra quando MTV ha occupato le frequenze di video music cancellando tutto l'archivio di video music la realtà italiana nata prima di MTV dov'era la sinistra dov'era la sinistra quando abbiamo svenduto la Fonicetra la Warner Bros. americana dov'era la sinistra tutta la cultura delle registrazioni Rai finite nelle mani di un'azienda americana che cazzo gliene frega cosa gliene frega MTV dell'archivio di video music avete mai visto un programma di video music replicato su MTV no dov'è la destra dov'è la sinistra sono solo favole questa è un'altra delle storie che il grande fiume raccoglie sulle rive della bassa e porta al mare favole che sembrano storie vere o storie vere che sembrano favole difficile poterlo stabilire difficile a Grazie per la visione!